Non solo il danno ambientale ma anche quello professionale e lavorativo. Dopo l'incendio che ha distrutto lo stabilimento e sprigionato la nube tossica, la proprietà della Sele Ambiente di Battipaglia ha annunciato il licenziamento collettivo di oltre metà della forza lavoro. In campo la CGL di Saverno che ha sollecitato l'amministrazione guidata dal sindaco Cecilia Francese a farsi portavoce delle stanze dei dipendenti. La fabbrica non c'è più, è andata in fumo letteralmente, per cui non c'è l'attività. Noi abbiamo preso contatti subito con lavoratori e con azienda per cercare di capire come salvare il lavoro e l'occupazione in una terra che soffre di questo e abbiamo pensato di attivare uno strumento come quello della cassa integrazione. Abbiamo detto anche all'azienda, però in questi giorni, anzi oggi, ieri, è arrivata questa comunicazione di licenziamento collettivo. Cercheremo di convincere l'azienda ad attivare la cassa integrazione e non procedere ai licenziamenti. Quanti sono i lavoratori destinatari del provvedimento di licenziamento e perché? I lavoratori complessivamente sono 20, i destinatari di licenziamento sono 12, naturalmente quasi tutti gli operai e qualche amministrativo. Resterebbero in forza 5 lavoratori che sono addetti alla raccolta della plastica nelle varie aree dove opera la società.